Salve a tutti, sono Antonio Pizzi, titolare della GTO Motors di Saronno. Sono qui seduto su una stupenda F40 in una colorazione molto particolare. Una macchina che stiamo finendo in questi giorni di approntare su richiesta di un nostro cliente in un colore che rievoca la gamma degli anni 60 di Ferrari. È un bellissimo verde a betone. Come sappiamo le F40 notoriamente sono nate tutte rosse e su richiesta di questo cliente che ha voluto una colorazione un po' particolare abbiamo provveduto a restaurare di carrozzeria e di interni questa vettura. L'interno l'abbiamo fatto come vedete con un'alcantara che rievoca il colore del cuoio così come il cielo e la carrozzeria questo verde a betone. Tutto il resto è rimasto invariato. Grazie a tutti.